Domenica 3 febbraio si voterà per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Sindaci e consiglieri comunali potranno recarsi al seggio allestito a Palazzo Sant'Agostino dalle 8 alle 20 per le operazioni che porteranno presumibilmente già nella tarda serata di domenica all'elezione del nuovo parlamentino di Palazzo Sant'Agostino. La squadra che dovrà accompagnare il neopresidente Michele Estraniese nel prossimo quadriennio. Sono otto le liste in campo così sorteggiate questa mattina. Campania Libera, più Centro, Provincia di Tutti, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Partito Socialista, Forza Italia e Lega Salerno. Saranno invece 16 i componenti del nuovo Consiglio che, stando alle previsioni, dovrebbe essere composto in larga rappresentanza dal centro-sinistra, in linea con il voto che ha già portato alla vittoria distianese nel faccia a faccia con il candidato del centro-destra Monaco. Fatta salva una quota, per così dire, fisiologica di franchi tiratori, circostanza questa già verificatasi nelle precedenti tornate, il centro-sinistra, che può contare su quattro delle otto liste in campo, si avvia dunque verso una riconferma. Importante sarà poi verificare la distribuzione e soprattutto la provenienza dei singoli futuri consiglieri provinciali, tra i quali poi il Presidente strenese sarà chiamato a scegliere la squadra di governo. Al netto di quello che sarà il risponso delle urne, sono diversi, strategici e variegati gli impegni che attendono il futuro governo provinciale, che, per quanto ridotto nelle competenze e soprattutto nel budget, relativamente ad alcuni settori della vita pubblica, in particolare scuola e viabilità, continua ad avere grande importanza.